Ciao Brewers! In questo video, come preannunciato, voglio fare un piccolo bilancio dell'ultima stagione Brassicola qui al birrificio Route 45, che è il nome del mio virtuale birrificio casalingo e quindi ripasso in rassegna velocemente le otto birre che ho prodotto appunto nella scorsa stagione. Si tratta, mi dimentico ormai di ricordarlo ogni volta, comunque sono tutte birre fatte in all grain, tecnica Biab e quasi tutte sono poi già state oggetto individualmente di una recensione, di un assaggio in altri video. Mentre parlo usciranno i link eventualmente a questi video per chi volesse andarli a vedere, li troverete comunque anche nella descrizione di questo video qua sotto. Iniziamo con la prima cotta fatta a ottobre 2015, cotta numero 41, che è la Capitan America. Capitan America è uno dei miei superclassici American Amber Ale, lupolata ma non troppo, ricetta ormai fissa e immutabile da anni, la faccio sempre, è venuta bene, nessun problema di fermentazione. La mia classica Capitan America che non delude mai. La cotta di novembre invece è stata la Spider-Man, IPA inglese, che è venuta discretamente, però qui ho avuto un problema di fermentazione, ovvero una fermentazione bloccata con una FG abbastanza alta, parecchio alta, 1,022, quindi ho avuto poi un po' di sovracarbonazione in bottiglia a distanza di qualche mese, per cui non è perfetta, non è perfetta nel senso che c'è questa sovracarbonazione, c'è questa dolcezza residua che non ci sta molto bene, il lupolo, nonostante abbia fatto anche un dry hop in quest'anno, non si sente tantissimo, rimane comunque una birra bevibile, per carità, però nì, insomma. La terza è un altro ormai classico, cotta fatta a dicembre, numero 43, la Zagor. La Zagor è una wheat, una birra di grano, stile americano, anche questa è venuta bene, non ho fatto modifiche alla ricetta, se non ricordo male, fermentazione ok, buona, buona, la classica Zagor, con la sua lupolatura di cascade, anche questa è una roccia. Quarta cotta a gennaio 2016 ho fatto la Silver Surfer, una new entry di quest'anno, una birra molto semplice, Smash, quindi un solo malto, un solo lupolo, Vienna e Sorace Ace, quindi un malto e un lupolo comunque un po' particolari, fermentata con il Mangrove Jacks M10, e questa si è rivelata una birra interessante nella sua semplicità, comunque beverina, leggera, piacevole, nessun problema in fermentazione, neanche in seguito, quindi una birra tutto sommato promossa. La quinta cotta è la Catwoman, una stout, una sweet stout, anche questa un'altra birra nuova, fatta per la prima volta, anche proprio come stile, e anche questa non è venuta male, come primo esperimento, direi che le promesse sono buone per una evoluzione futura, è già buona così com'è, però ci si può lavorare sopra. Una buona stout, non troppo leggera, perché passa i 6 gradi di alcol, però piacevole da bere. La sesta birra è un altro classico, la Thor, Belgian Ale, abbastanza forte, parliamo di una birra con 7 gradi abbondanti, 7,1 di alcol, ricetta classica, quest'anno sì, ho fatto una piccola modifica, ho aggiunto un pizzico di Cascade da Aroma, che di solito non mettevo, però in realtà non è che si senta più di tanto nella birra finita, comunque è una birra che è venuta bene, come al solito, fermentazione ok, una di quelle birra che rimanendo anche mesi in bottiglia migliora, anziché peggiorare, quindi sempre una soddisfazione, sempre una delle mie preferite. La penultima cotta, la numero 47 di aprile 2016, è la Wolverine. Wolverine che avevo ripreso a fare l'anno scorso, che ho rifatto ancora quest'anno, modificando la ricetta parecchio, comunque come succede sempre con la Wolverine, parecchie modifiche. Questa è un'altra birra che ha avuto una fermentazione purtroppo bloccata a 1,020 e che poi però dopo un paio di mesi in bottiglia ha evidentemente ripreso e quindi ha avuto una forte sovracarbonazione con anche un gushing di schiuma al momento di stappare le bottiglie, per cui la birra non sarebbe neanche male, non sarebbe affatto male se non avesse questo difetto di sovracarbonazione che magari tende a falsare un po' le cose. Comunque, a parte questo, sarei abbastanza soddisfatto di questa birra. Tra l'altro della Wolverine ci sarebbe anche la versione Christmas con speziatura aggiuntiva, di cui anche qui vi ho parlato già in un altro video, per trasformare praticamente una birra di Natale. Quella la assaggieremo comunque quando sarà il periodo natalizio. L'ultima cotta della stagione è come sempre la Alan Ford che abbiamo visto, che ho assaggiato con voi nell'ultimo video e quindi non c'è insomma molto altro da aggiungere. È la cotta che faccio sempre a fine stagione, raccogliendo gli avanzi di malti, di lupoli, eccetera e ne è uscita comunque una birra di stampo belga, un po' e comunque di tutto rispetto. Nel complesso, che dire, di questa stagione? Sono abbastanza soddisfatto. Ho introdotto alcune, un paio di birre nuove che mi sono piaciute, la Silver Surfer, la Catwoman. Ho anche introdotto delle tecniche, una tecnica nuova durante la cotta, quella di vuotare il mosto nel fermentatore filtrandolo con una sacca Biab in modo da recuperare più mosto possibile. Infatti ho prodotto anche più birra del solito. Prima facevo sempre un 14 litri nel fermentatore, adesso ne ho sempre 15-16. Infatti ho prodotto alla fine un 120 litri di birra, contro i 100, poco più, che facevo di solito. Ho fatto anche alcuni esperimenti nuovi, quello appunto di usare le spezie, così che sono stati interessanti e istruttivi. e anche questo ne abbiamo parlato in altri video. Quindi, a parte insomma quei due difettucci di fermentazione, quei due problemini di fermentazione che ho avuto sulla Spider-Man e sulla Wolverine, per il resto sono soddisfatto. Detto questo, è archiviata quindi la stagione 2015-2016, dobbiamo cominciare a parlare di quella 2016-2017, perché tra un mese circa si comincerà con la prima cotta della nuova stagione, e quindi bisogna decidere quali birre nuove verranno fatte quest'anno. Bisognerà decidere di conseguenza quali di queste birre verranno eliminate per fare posto a quelle nuove, perché il totale delle cotte sarà sempre otto, ma di tutto questo parleremo la settimana prossima, nel prossimo video, e nel frattempo quindi iscrivetevi al canale, commentate e condividete il video. a tutti.